Nel 1964, durante un breve viaggio a Parigi, lo scrittore americano e appassionato d'arte James Lord incontra il suo amico Alberto Giacometti, un pittore di fama internazionale che gli chiede di posare per lui. Le sedute, gli assicura Giacometti, dureranno solo qualche giorno. Lusingato e incuriosito, Lord accetta. Non è solo l'inizio di un'amicizia insolita e toccante, ma anche visto attraverso gli occhi di Lord, di un viaggio illuminante nella bellezza, la frustrazione, la profondità e a volte il vero e proprio caos del processo artistico. E Final Portrait, l'arte di essere amici in programmazione al cinematografo Sant'Angelo dall'8 al 14 febbraio. Nel corso di questa settimana diversi saranno i film proiettati allo storico teatro di Cosso Garibaldi fino al 6 febbraio Sono Tornato e il 7 febbraio Tosca, direttamente dalla Royal House Opera. A grande richiesta, invece, al Cinema Meliè, fino al 7 febbraio sarà ancora proiettato Fabrizio Di Andrè, principe libero, con spettacoli alle 17.30 e alle 21, mentre tutti giovedì e venerdì e fino al 22 febbraio ci sarà l'inchiesta Visioni del Reale. Per info sulle trame e orario programmazione degli altri film, visitare il sito internet www.cregatti.it www.cregatti.it